Sabato sera Palena ha ufficialmente abbracciato i biancazzurri con una splendida festa organizzata al centro del paese. Musica, spettacolo e tanta allegria hanno accompagnato i ragazzi di Mister Oddo. La manifestazione presentata da Massimo Profeta è stata aperta dal sindaco Claudio De Miglio che ha ringraziato il Pescara e ha colto con un riconoscimento il presidente Daniele Sebastiano. Vedere questo paese pieno di gente per il Pescara intanto mi riempie d'orgoglio perché vuol dire che questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario quest'anno e quindi questa è una parte, una grande parte del riconoscimento. Per quanto riguarda il sindaco, lui ha speso parole belle per me, io devo fare la stessa cosa per lui e per tutta la comunità di Palena. Loro ci hanno accolto qui l'anno passato anche per pochi giorni, siamo stati pienissimo e quest'anno quando c'è stata la possibilità di replicare non ci abbiamo nemmeno pensato un minuto in più e abbiamo dato ok per venire e alla fine tanta allegria con un super selasi che ha dimostrato ancora una volta d'aver imparato bene il dialetto pescarese. Grandissimo, grandissimo.